Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per dare quello che è il tema un po' del martedì mattina quando ci ritroveremo domani per, insomma, la nostra studita diretta per raccontare un po' di cose. Eh, siamo nel clima natalizio, eh, natalizio vero e proprio. E allora a proposito di clima natalizio, beh, sicuramente domani parleremo non di alberi perché ne abbiamo già parlato, neanche di regali, anche se in realtà siamo di corsa per cercare i regali da fare, ma parleremo di musica. Ah, che cosa strana! Eh sì, parleremo di musica perché in realtà, non so voi, ma insomma, durante le feste natalizie in particolare, secondo me la musica è ancora più protagonista. Ad esempio, nel mio caso, ogni volta che noi andiamo a realizzare l'albero di Natale oppure il presepe, ecco, mettiamo sempre le nostre canzoni natalizie in sottofondo, questa playlist, no, che ci immerge in queste festività. Eh, in realtà, insomma, io volevo domani parlarvi di musica, ma non proprio in particolare di quelle che sono le canzoni natalizie, vere e proprie, ma l'album o le canzoni che in qualche modo vi fanno compagnia nel periodo delle feste che possono essere anche le più disparate, ma che magari vi portano a viaggiare, come sempre, no, perché poi è questo che noi facciamo. Ebbene, allora, tra le tante cose che io ho trovato, ho trovato questo album di questo artista James Taylor che a me piace tantissimo, tra le sue canzoni, ok, c'è la più classica, c'è la più, quella più conosciuta che è Country Road e in questo caso mi fa viaggiare, mi fa viaggiare nelle feste, mi fa immaginare anche un po', se vogliamo, un Natale particolare magari anche in altri luoghi che non sono quelli classici di casa nostra magari per andare anche a vedere un po' come sono i Natali in giro per il mondo perché poi questo anche mi incuriosisce, no, sapere un po' come le tradizioni vengono affrontate nel resto del mondo e allora, visto che voi siete in tantissimi, vi chiedo così, domani mattina magari, ah, di portare o anche scriverlo prima, così magari riesco anche a organizzarmi, qual è, può essere la vostra canzone così che più vi piace ascoltare durante il periodo natalizio e poi, insomma, magari, visto che siete lontani da me, quali sono le vostre tradizioni natalizie quindi che cosa si fa, che cosa si mangia, che cosa si addobba, che cosa vi piace fare insomma, anche le città straniere, no, alla fine, come si addobbano a festa per cui, come sempre, io vi do appuntamento a domani alle 9.15, più o meno, 9.20 per cui mi raccomando, oh, non mancate, perché io, come vedete, l'alberello ce l'ho, eh quindi, aspetto anche i vostri e naturalmente ci daremo a compagnia per un'oretta ciao, a domani, baci